La sua candidatura che propone al PD? Propongo al PD che si è imbalsamato dentro un'attesa messianica che non si realizza. Noi abbiamo i doveri di caro candidato, io sono candidato, perché anche l'ultima decisione della Corte dei Conti sancisce che noi abbiamo saldato la Sicilia, abbiamo lavorato al PD. Il partito non è d'accordo? Allora proponga le primarie e i candidati alternativi, ma sicuramente non si può liquidare un'esperienza come questa nostra che è stata straordinaria, che ha salvato una Sicilia che era sul Baratro e finalmente con un'isola che riparte pensando che questo discorso debba essere riservato ai capi carrenti romani che devono decidere per i siciliani. Questo è inaccettabile e la parola va data al popolo siciliano. Io sono candidato. Che coalizione immagina? È una proposta a tutti. La coalizione vuole discutere, ha altre proposte. Bene, si facciano le primarie democratiche, io sono pronto alla sfida. Però debbono essere primarie fatte seriamente, non con i trucchetti. Primarie dove si venga garantito che a vincere non siano gli apparati, ma sia a contare sia il voto vero dei cittadini. Su questo siamo pronti alla sfida. Ripeto, molti in questi anni hanno detto facciamo le primarie, molti hanno detto che si vogliono candidare, facciamo la prova del 9. Io a proposito di 9 ho letto un manifesto oggi in cui dico 9 volte mi cambio.